salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito dalla location oggi si testa lui il k 911 max il primo drone love coast e 249 grammi con sensore anti collisione sì perché sicuramente quello che ha fatto parlare tanto di lui è questo piccolo sensore e per quanto riguarda invece le sue caratteristiche tecniche le mie impressioni riguardante questo drone vi rimando al video dell'unboxing ve lo lascio qua sopra nelle schede dove ho spiegato tutto quello che riguarda la teoria riguardante lui mentre oggi è il giorno della pratica lui come sapete un drone che nella versione con sensore anti collisione costa poco meno di 100 euro vi lascio qua sotto il link e coupon sconto e ovviamente il test di oggi sarà principalmente per provare questo sensore questo sensore che va a direzionarsi nel lato in cui si sposta il drone quindi se il drone va a destra lui si gira verso destra se il drone va indietro lui ruota verso il dietro del drone quindi questo è diciamo il movimento che fa il sensore per andare a visionare l'area in cui si sta andando a muovere il drone allora vi dico subito che lui è un drone per chi vuole imparare a pilotare un drone per un principiante che non ha mai avuto un drone può acquistare tranquillamente questo drone adesso lo vedremo nelle varie sue caratteristiche di sicurezza nel senso che lo proveremo in hovering quindi lo metteremo qua in hovering per vedere come si comporta dal punto di vista della stabilità che è una cosa sempre utile soprattutto per un principiante avere un drone che sta fermo immobile poi lo proveremo nella qualità video e foto ma vi dico subito ragazzi che sarà una delusione da quel punto di vista perché comunque non avendo un gimbal meccanico ma solo una stabilizzazione elettronica che secondo me è pure inesistente cioè non esiste scordatevi video e foto non acquistatelo per quel motivo assolutamente no ma acquistatelo ovviamente per altre caratteristiche quelle di imparare a pilotare un drone e farlo in sicurezza quindi sempre parlando di sicurezza proveremo poi l'rth quindi per questo che qua ho il pad perché lui decollerà da questo pad poi lo manderemo ad una distanza di non so circa 100 metri o giù di lì perché comunque il ritorno video ragazzi è quella la distanza massima che arriva mentre il controller ovviamente ha molto più range perché il controller comunque anche un'antenna vera quindi il range con il controller può arrivare tranquillamente anche a 500 600 metri se non ci sono interferenze ma ritorno video va intorno ai 100 metri non di più e ritorno video ritorno video che lagga anche quando il drone è vicino a noi quindi potete immaginare man mano che si allontana anche perché lo smartphone è collegato direttamente al drone per quanto riguarda il ritorno video ovviamente essendo all'aperto voleremo in modalità gps perché comunque lui ha la possibilità di switchare tra gps e non gps quindi vedete che c'è il simbolo con la casetta o con la scritta gps quindi gps cosa vuol dire che lui finché non aggancia un numero di satelliti minimi che ci permette di volare in sicurezza anche per quanto riguarda l'rth non ci farà decollare una volta raggiunti i satelliti minimi sentiremo un bip che ci dice ok adesso puoi decollare fino a quel momento potremmo fare quello che vogliamo ma lui non decollerà mentre essendo un drone che ha anche l'optical flow quindi ha una stabilità in hovering perché legge il suolo quindi la stabilità diciamo migliore magari di altri droni che non hanno l'optical flow può volare all'interno di abitazioni o qualsiasi struttura in cui il gps non prende ma facendo switchare questa levetta verso il simbolo della casetta disabiliteremo il gps e lui potrà decollare anche senza nessun satellite disponibile e volerà ovviamente con l'optical flow e il giroscopio però ragazzi detto tutto questo finalmente direi che è arrivato il momento di decollare ok ragazzi vado accendere il k 911 max entriamo nelle impostazioni wifi del nostro smartphone vedete che ha già rilevato la rete hf gps 5g che non è da confondere con la rete 5g telefonica quindi una volta associata alla rete wifi creata dal drone al nostro smartphone non ci resta che andare ad aprire l'applicazione che in questo caso è rx drone andiamo a cliccare su play in basso a destra e voilà abbiamo il ritorno video nello smartphone a questo punto la prima cosa da fare è la calibrazione della bussola quindi possiamo farla cliccando il piccolo tastino qua con il simbolo della bussola sul controller quindi avete sentito che ha suonato vado a fare ruotare il drone ha suonato ancora quindi vado a farlo ruotare da questa parte perfetto avete sentito tutti i bip quindi cliccate il tastino fate ruotare il drone in maniera orizzontale poi al bip lo posizionate in maniera verticale lo fate ruotare fino a quando fa due bip a quel punto la calibrazione avvenuta quindi a questo punto non ci resta che decollare e provare quelle che sono le caratteristiche principali di questo piccolo drone ovviamente la cosa più interessante da provare è il sensore anti collisione perfetto siamo pronti a decollare ovviamente la modalità di volo sarà quella gps quindi senza un minimo di satelliti non potremo decollare ma adesso siamo già pronti a decollare perché abbiamo ben 12 satelliti quindi voleremo in totale sicurezza in teoria quindi proveremo anche il return to home per vedere come si comporta a livello di sicurezza e a questo punto ragazzi non mi resta che decollare per decollare abbiamo varie possibilità o dallo smartphone con le impostazioni che troviamo nel menu cliccando sul lucchetto o con il piccolo tastino qua sul controller quindi cliccando il tastino i motori iniziano a ruotare e andiamo a dare gas perfetto sentite già come suona il sensore anti collisione l'overing mi sembra davvero buono stabile perché comunque lui all'optical flow poi comunque al gps ea il giroscopio quindi tutto nella norma per quanto riguarda l'overing ma adesso non mi resta che provare il sensore anti collisione si perché col piccolo sensore va a ruotare adesso sto facendo scendere io sul lato in cui il drone si sposta appunto per andare a rilevare gli ostacoli quindi se lui adesso viene verso di me il sensore ruoterà su se stesso per inquadrare il dietro del drone ok proviamo a venire verso di me quindi vengo piano verso di me gira il sensore anti collisione si vedete che il sensore si è girato e lui suona e viene indietro a scatti o addirittura si ferma quindi il suo dovere in questo momento l'ha fatto proviamolo adesso sul fianco il drone qua da parte a me quindi lo faccio venire verso di me vediamo come si comporta il sensore dovrebbe girarsi appena parto si si gira suona ma è venuto in avanti ok il sensore ha suonato però non si è fermato provo adesso a mettermi un pelo più indietro a vedere se mi rileva meglio riproviamo pronti via vediamo se mi vede benissimo quindi spero di farlo di una telecamera cioè stick è sul fianco e lui rimaneva fermo ovviamente questa cosa lo fa destabilizza perché comunque quando il sensore rileva l'ostacolo lui si muove si sposta non aggira l'ostacolo però ovviamente queste frenate che gli fanno fare lo fanno destabilizzare un po' su quello che è la linea però a dire la verità sembra che funzioni adesso riproviamo facciamolo venire in avanti verso di me quindi a questo punto supponiamo che io mi allontano un po' perché comunque lui sta vedendo ostacoli da tutte le parti adesso lui è posizionato circa 3 4 metri da me pronti vieni in avanti ok viene in avanti ma frena cioè avete visto che scatta e dai colpetti però non si è bloccato totalmente riproviamo pronti ok vedete che va a scatti dai colpi però adesso è venuto comunque in avanti senza fermarsi adesso direi che possiamo provare contro qualcosa di più sostanzioso di me ok quindi proviamo andare verso quella pianta quindi simuliamo una situazione molto reale perché le piante ovviamente sono uno di quei situazioni critiche normalmente perché principiante con i droni allora pronti vediamo via vai ok vedete che sentite che suona però lui continuava andare suona l'avviso che c'è un pericolo un ostacolo rallenta da dei colpetti però continua ad andare riproviamo adesso salendo di quota ha dato un colpetto ma non si è fermato proviamolo sul fianco proviamo adesso se adesso si il tronco l'ha visto è il tronco c'è lo stick è tutto tirato verso sinistra sentite come suona il tronco l'ha visto ovviamente quella parte di rami lì non la vede ma fanno fatica anche i droni più blasonati a vedere i rametti è quella parte lì adesso la vista proviamo andarci con il dietro pronti vediamo ok vedete che lo stick indietro e lui è fermo ok ragazzi allora abbiamo provato i sensori di collisione che non sono impeccabili però non si può neanche dire che non funzionino e dipende un po' probabilmente dalle condizioni di luce perché il sole oggi è molto forte e sicuramente dipende anche dall'ostacolo i rami della pianta fa veramente fatica a vederli ma anche i droni più blasonati e i rami delle piante fanno veramente fatica e lui in certe situazioni si ferma o in altre va a scatti suona che c'è un pericolo ma va avanti però direi che per essere diciamo il primo drone 249 grammi con questa funzione non si può nemmeno dire che non funzioni ovviamente non aspettatevi cose incredibili però il suo dovere lo fa guardate adesso che è arrivato un filo d'aria come si muove diciamo che il livello 7 di vento probabilmente anche no adesso voglio farvi vedere che lui non ha un gimbal stabilizzato come sapete provo a muovere la telecamera perché la telecamera comunque è inclinabile dalla rotella dello smartphone e questo è l'effetto è molto molto scattoso quindi anche da questo punto di vista molto molto economico e allora adesso direi di provare a fare un voletto per vedere come si comporta in volo vedete che contro luce tendeva a vedere gli ostacoli anche se non c'erano allora a livello di volo direi buono sì mi piace è sicuro a livello di telecamera ragazzi anche noi la stabilizzazione elettronica è praticamente inesistente quindi a livello di di video anche no soprattutto perché poi questi video in cui non c'è una micro sd come vi ho detto all'interno del drone vengono trasmessi direttamente nello smartphone quindi si perdono un sacco di frame oltre che la stabilizzazione molto scarsa anche i frame se ne vanno un po a quel paese però potremmo provare com'è a livello fotografico proviamo a scattare qualche foto così verso i cavalli scatto una foto mi giro e scatto una da questa parte però vedete come è tremolante l'immagine anche quando in hovering perché proprio la stabilizzazione è zero altro che stabilizzazione elettronica qua di stabilizzazione elettronica non c'è neanche l'idea è allora a questo punto rifaccio ripartire la registrazione video ok mi allontano e proviamo un rth perfetto siamo ad un'altezza di 24 metri mi alzo ancora un po mi allontano il range sarà davvero scarso e ve lo dico perché comunque come segnale di controller no potrebbe arrivare anche a 500 600 metri ma come ritorno video probabilmente si bloccherà presto intorno ai 150 metri perché è collegato direttamente allo smartphone siamo ad una distanza che mi sono fermato l'immagine arriva dopo mezz'ora siamo ad istanza di 91 metri mi sposto un po da questa parte e poi vado ad attivare le rth si ritorno video qua se ne già bello che è andato arriva veramente in maniera super lenta a livello di ritorno video proprio scadentissimo vado ad attivare le rth ok sta tornando vediamo come si comporta nelle rth e sta tornando ovviamente sono droni per cui non dovete andare troppo lontani e mi raccomando sono droni da usare vicino a voi quindi massimo 100 metri 150 non di più comunque sono piccoli leggeri super economici è vero che hanno le rth però vediamolo comunque sta tornando e qua è sopra di me vediamo come si comporta nelle rth ritorno video adesso è diventato un po più con meno lag perché si è avvicinato ovviamente allo smartphone vediamo mi lontano sta scendendo è però le rth dai non l'ha fatto male secondo me si avvicina molto al landing per essere un piccolo drone a 249 grammi molto molto economico dove sei eccoti li sta arrivando allora ci siamo sta atterrando allora adesso appena scendo un po lo vado a interrompere così vediamo bene la distanza dal landing ok anzi no lo faccio a terra nell'erba tanto c'è l'erba bassa quindi non si va a rovinare niente le liche non toccheranno nemmeno l'erba suppongo guardate è la il landing pad è qua facciamo un calcolo dal centro delle pad quindi 12 2 e mezzo direi che a livello di distanza dal pad è di due metri e mezzo quindi direi come margine di errore ci sta per un drone davvero economico perché come vi ho detto meno di 100 euro nella versione quel senso l'anticollisione e a livello di sicurezza direi tanto tanta roba perché comunque è tornato bene o male dall'area dove è partito allora vado a recuperarlo ok allora è una cosa che non vi ho fatto vedere almeno non mi sembra di avervela fatta vedere che se vado a cliccare sul simbolo del drone in alto si apre una schermata ragazzi con una serie di funzioni automatici voli automatici we point cioè veramente c'è di tutto cioè guardate che lista infinita non ve ne faccio vedere neanche una perché ragazzi non calcolatele non calcolatele praticamente o non le fa o le fa male cioè questi piccoli droni non prendeteli per queste funzioni che vengono ovviamente pubblicizzate sulla scatola sulla confezione le caratteristiche tecniche perché nella pratica anche no questo piccolo drone ragazzi dovete acquistare è per imparare a utilizzare un drone e imparare a utilizzare un drone che pesa meno di 250 grammi quindi un drone che non ha bisogno di patentino per essere pilotato un drone che in questa versione vi viene data col sensore anti collisione che avete visto che non è impeccabile ma neanche disastroso quindi un po di aiuto ce lo dà in situazioni di pericolo quindi o come avviso sonoro o proprio nel fermarsi fa il suo dovere secondo me in maniera abbastanza dignitosa per poi essere il primo drone low cost è sotto i 250 grammi ad avere questo tipo di sicurezza questo sicuramente uno dei motivi per cui vale la pena acquistare questo piccolo drone l'rth avete visto preciso è tornato a due metri e mezzo dal padre a circa 100 metri di distanza quindi anche a livello di sicurezza da questo punto di vista tanta roba se lo dovete acquistare vi consiglio la versione a due batterie perché le batterie non durano 20 minuti come dichiarati e siamo intorno ai 15 minuti quindi io vi consiglio la versione con due batterie così avete più divertimento e poi comunque la batteria che andata a togliere la potete anche ricaricare con un power bank quindi è sicuramente un drone che vale la pena acquistare per quanto riguarda volo sicurezza per quanto riguarda il sensore anti collisione che ci dà sicuramente una mano e sicurezza nelle rth questi sono i motivi per cui va acquistato questo non acquistatelo per i video non acquistatelo per le foto non acquistatelo per qualsiasi altro motivo questi sono gli unici motivi e sono motivi comunque importanti perché comunque parliamo di un drone costa meno di 100 euro ed è sicuramente il prodotto ideale per imparare a pilotare un drone prima di passare a qualcosa di veramente più impegnativo o più costoso quindi con un piccolo drone come questo lo fate comunque in sicurezza quindi ragazzi spero che questo mio video riguardante lui il k 911 max è questo piccolo drone che ha fatto molto parlare di sé per questo piccolo sensore anti collisione che c'è sopra di lui se vi è piaciuto vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler di quello che arriva qua sul canale location dove vado a far volare i miei droni sempre si viva iscrivetevi al mio canale tre come offerte per sostiene questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante la tecnologia in generale il mondo dei droni anche di lui coupon sconto li trovate anche lì ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdi viene anche un video un volo una recensione un test un tutorial di novità ciao e al prossimo video